carissimi, poco notomaniaci, scusate, giuro, poi fino a settimana prossima non vi rompo più le balle quindi faccio questo video oggi, poi basta, volevo proporre questo video tecnico, per quale motivo? allora, anzitutto è un video brutto da proporre, nel senso che lo spunto per fare questo video l'ho preso guardando il video di un altro youtuber un ragazzo che è iniziato da poco, e a parer mio fa un po' di errori, vabbè, è appena iniziato con la rasatura tradizionale quindi non è, chiariamo subito, non è uno dei tonsori conosciuti, è proprio il più sconosciuto fra tutti però si è messo in gioco, si è messo in gioco, è iniziato con i propri video e io, col mio carattere, se uno mi dovesse dare un consiglio senza che questo consiglio venga da me richiesto mi partono subito i neuroni, lo mando a quel paese, quindi non me la sento di dirgli guarda, secondo me sarebbe meglio che tu faccia così piuttosto che cos'ha quindi ne farò nomi, ne andrò a dirgli nulla spero solo che magari un'occhiatina la dia a questo video il problema di fondo cos'è? che quando qualcuno si mette su youtube e propone un video troverà sempre un interlocutore che magari lo vedrà per la prima volta l'interlocutore avrà ricercato questo video per vedere un pochino quali sono le aspettative rispetto all'argomento e si desume che quello che proponga il video ne sappia, ne sappia quantomeno più di noi e beh purtroppo spesso in realtà non è così, io lo vedo anche nel mio lavoro mi capita frequentemente che alcuni allievi arrivano col telefonino in mano e mi dicono eh ma tu mi spieghi i parcheggi in un certo modo ma guarda questo con youtube beh in 3,8 secondi gli smonto la teoria dimostrando che non è che stia dicendo cose prettamente corrette mi viene in mente poco tempo fa un ragazzo mi ha detto eh però questo qui su youtube dice che quando fai l'affiancamento per il parcheggio devi portare lo specchio destro della tua macchina all'altezza dello specchio dell'altra per poi iniziare la manovra tu mi insegni qualcosa differente va bene io ho detto ascolta e se l'altra macchina fosse girata al contrario? se l'altra macchina non fosse una vettura ma fosse un autocarro e lo specchio ce l'hai 5 metri davanti a te che caspita fai? questo mi ha guardato così un po' basito ma effettivamente stava dicendo una stupidata quindi l'errore di fondo adesso ritorniamo nell'ambito della rasatura che fa questo ragazzo a parer mio è un errore madornale nell'impugnatura del rasoio mi spiego meglio allora in tutti gli strumenti dove occorre una certa sensibilità per esempio la matita la penna per scrivere non sarà mica un caso se la parte zigrinata l'hanno fatta vicino al punto dove opera lo strumento e qua riesco ad avere una calligrafia più curata una gestione migliore dello strumento io sfido chiunque a scrivere con la penna così d'accordo? non uscirà mai una buona scrittura beh la questione qual è? allora l'impugnatura del rasoio a parer mio questo tizio sbaglia completamente l'impugnatura e ha mentalmente un concetto che dai non esiste non esiste la pressione zero la pressione zero non c'è non esiste nella rasatura è come dire sempre parlando del mio lavoro l'aderenza pari a zero ma non esiste l'aderenza pari a zero posso avere un'aderenza bassa bassissima ma sarà sempre diversa da zero quindi anche nell'utilizzo del rasoio di sicurezza sappiatelo fidatevi la pressione zero non c'è cioè sarà senz'altro una pressione più bassa rispetto all'utilizzo del multilama ma la pressione zero non esiste ora questo tizio per gestire la pressione in modo molto lieve quindi avvicinarsi a quella che lui reputa la pressione zero cosa fa? impugna il rasoio nella parte bassa il risultato qual è? quando comincia con la rasatura i primi 3-4 centimetri il rasoio taglia opera correttamente e la barba viene via poi si scombina il tutto adesso andremo a vedere perché andremo a vedere quale potrebbe essere una soluzione e la rasatura non esce più il rasoio passa passa ripassa passa ancora e la barba non viene via ma porca miseria si è venuta via nei primi 3 centimetri ci sarà un motivo per cui non viene via nei 3 centimetri seguenti oppure no? certo che c'è il motivo il motivo è l'errore che si viene a creare dunque tenendo il rasoio nella parte bassa d'accordo? inizia la rasatura e ecco qua che casca l'asino la pressione ci vuole per forza la pressione ci vuole e quindi un pochino inizio a spingere e che succede? intanto per la mano questa è una leva molto svantaggiosa se io qui eserci un minimo di pressione non sono in grado di tenere fermo il rasoio poi subentra quello che in fisica perdonatemi io adoro la fisica insegno dinamica quindi ci sta subentra un principio di azione reazione io spingo il rasoio contro il viso perché un po' di pressione ci vuole e il viso di rimando cosa fa? azione la spinta reazione il viso spinge il rasoio dalla parte opposta ed ecco che il rasoio per via della leva svantaggiosa comincia a piegarsi ad assumere un andamento verticale il pettine o la barra appoggiano il viso ma la lama si allontana e quindi non ho nessun effetto di rasatura dunque è palesemente un errore nell'impugnatura vuoi raderti così? dovresti con una forza incredibile serrare le dita e a quel punto diventa anche difficile gestire lo strumento così come diventa difficile o diventerebbe difficile gestire una penna così come diventerebbe impossibile gestire uno chavette ma lo terresti a voi così uno chavette e per poi farvi la no non c'era la mente e poi farvi la barba ma io no magari magari alla fine qualcosa salta fuori però il rischio è estremamente elevato dunque a parer mio l'impugnatura deve essere visto che è uno strumento diciamo di precisione vicina alla testa del rasoio ora anche qui è possibile incappare in errori di angolazione del rasoio per cui anche qui potrei arrivare all'effetto del non taglio dunque cosa è consigliabile fare? io sinceramente sono andato a rivedere i miei video penosi e penosi soprattutto i primi li cancellerei da youtube per vedere come tengo la mano perché dopo tanti anni di utilizzo del rasoio di sicurezza ma sì so che impugno il rasoio qua vicino alla testa nel punto di baricentro l'ho già detto ma non non mi sono mai studiato riguardandomi allora la cosa carina la cosa non lo so carina la cosa che faccio involontariamente non è che è una cosa che ricerco però mi sono reso conto di questo che utilizzo il mignolo cioè l'ultima falange del dito questa qua del dito mignolo come fosse una sorta di dima una sorta di guida quindi impugnatura vicino alla testa del rasoio e il manico appoggia proprio dove c'è la righettina dell'ultima falange questo cosa comporta che tenendo la mano in questo modo beh io non riesco a raddrizzare il rasoio a perché le tre dita opponibili mi sarebbero scomode appoggerebbero al viso e poi così facendo vedete che si allontana il manico dal mignolo nel caso in cui lo riportassi in posizione comunque il rasoio avrà non dico un angolo corretto perché va ricercato rasoio per rasoio ma quantomeno un angolo aperto e cosa che invece questo signore assolutamente perde come punto di vista e la rasatura esce ma con mille mille difficoltà quindi il consiglio che do io a questo signore o a chiunque voglia guardare il video e credetemi non è supponenza non mi interessa niente non volevo neanche farlo però mamma mia vedere le difficoltà la difficoltà con la quale cerca di farsi la barba è estruggente mi farebbe voglia di entrare nel video e dirgli ascolta ma smettila di tenere il rasoio non vedi che non taglia la mazza quindi il mignolo usato come dima quantomeno mi consente in quasi tutte le posizioni del viso di obbligare il rasoio a mantenere un angolo aperto ok anche nell'azione di contropelo il mignolino qui così d'accordo svolge una doppia funzione a impedisce al manico di portarsi in un parallelismo più o meno virtuale rispetto al viso e poi mi consente di mantenere sempre o quasi sempre un angolo corretto ok anche durante l'azione di passaggio di pelo traverso è un grosso aiuto un grosso aiuto quantomeno probabilmente per chi inizia quindi video così un po tecnico un po un po avevo voglia di dirlo io spero tanto che questa persona magari lo guardi perché credetemi mettersi in gioco mettersi davanti a un telefonino una webcam farsi la barba non è facile non è per niente facile e a volte lo vedo un po scoraggiato il tizio in questione quindi niente spero che guardi il video e ribadisco il concetto in chiusura non è un video richiesto quindi non volevo farlo è un consiglio a sua volta non richiesto io in primis odio i consigli non richiesti per cui offendetemi pure lo accetto però potrebbe essere un'idea cioè quella di usare il mignolo o anche l'anulare come una sorta di dima per mantenere il rasoio in posizione corretta durante la rasatura ok quindi carissimi basta fino a sabato prossimo non vi stresso più un caro saluto a tutti una buona domenica e ci vediamo ciao a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania